In questo video andremo a vedere come si comporta al giorno d'oggi la scheda video di AMD top di gamma del 2017, la Radeon Vega Frontier. Ciao ragazzi, ciao a tutti e bentornati qui sul canale del vostro Intendaro Pazzo. Oggi siamo qui con questa scheda video che secondo me, vi dico subito esteticamente, è qualcosa di fantastico. Ma oggi ovviamente non ci soffermeremo soltanto sull'aspetto estetico di una scheda video, questo non lo si dovrebbe fare mai, ma andremo a vedere ecco come performa al giorno d'oggi in applicazioni di produttività e neanche negli ultimi giochi questa scheda video di AMD che appunto era pensata per la fascia professionale e al lancio costava 1000 dollari e aveva ben 16 giga di VRAM HBM2 che per il 2017 erano veramente tanti. Ma prima di continuare col video vi invito come sempre a iscrivervi qua sotto al canale attivando anche la campanella per ricevere tutte le notifiche così da rimanere sempre aggiornati. Detto questo vi invito anche a iscrivermi ai miei due canali Telegram di offerte che riguardano offerte di Amazon ovviamente per l'hardware e i videogiochi usati e nuovi. Quindi ecco i due canali sono uno per l'usato e uno per il nuovo. Mi raccomando iscrivetevi perché passano veramente sempre delle offerte molto interessanti e quindi ecco se lo fate fate un favore a voi e al vostro portafoglio. E detto questo vi invito anche a seguirmi su Instagram così anche lì da rimanere sempre aggiornati. E ora direi di tornare alla Vega Frontier. Prima di partire a parlarvi delle specifiche tecniche di questa scheda e anche della sua storia ci tengo a ringraziare il mio amico Lorenzo perché è grazie a lui che oggi possiamo fare questo video e ho visto che mi ha prestato questa Radeon Vega Frontier che aveva recuperato insomma in passato. Quindi ecco ci tengo a ringraziarlo e niente quindi possiamo partire ora con le specifiche. Questa è una scheda uscita a luglio del 2017. Anno abbastanza interessante per le schede video perché AMD appunto aveva appena rilasciato proprio con questa Vega Frontier come scheda ammiraglia la sezione ecco di Radeon Vega quindi la Vega 56 e la Vega 64 che andavano insomma a competere con le Pascal d'Invidia cioè le GTX 1080, 1070 e anche 1080 Ti che era appena uscita proprio in quel periodo. In particolare questa Vega Frontier presenta all'interno il chip con architettura Vega più spinto insomma di quella generazione poiché all'interno presenta 64 con più tunit quindi sostanzialmente come la Vega 64 però con frequenze di clock più spinte e ben 16 GB di memoria HBM2. Come vi ho già detto nella intro questa non era una scheda pensata per chi voleva videogiocare ma era una scheda pensata più per lavoro e infatti anche per questo vediamo insomma una scheda equipaggiata con ben 16 GB di memoria di VRAM che all'epoca insomma per il 2017 già gli 8 GB presenti sulla 1080, 1070 erano considerati insomma un quantitativo più che sufficiente anzi veramente molto ampio e la 1080 Ti arrivava a 11 GB e invece le altre schede insomma che potevano essere invece interessanti per chi doveva fare lavori insomma doveva utilizzare per lavoro erano ovviamente le Nvidia Quadro e quindi ecco in realtà questa Vega Frontier più che con le schede consumer quindi più che con la 1080, 1080 Ti si andava a scontrare con le Nvidia Quadro poiché quelle schede costavano veramente tanto anche la Nvidia Quadro P5000 schede che all'interno ha il silicio della GTX 1080 sostanzialmente un GP104 come silicio ha 16 GB di memoria VRAM GDR5X ma ve la fanno pagare ecco ve la facevano pagare 2500 euro e anche più o meno stessa cosa per la P6000 più o meno stesso silicio della GTX 1080 Ti ma con ben 24 GB di VRAM costava 6000 dollari al lancio mentre questa Vega Frontier pur avendo il doppio di memoria rispetto alle sue controparti consumer come la Vega 64 costava solamente tra virgolette 1000 dollari al lancio cosa che poteva essere molto interessante perché all'epoca schede con un quantitativo così ingente di VRAM che costavano così poco non esistevano quindi effettivamente poteva essere una scheda molto interessante per diversi creator insomma per diversa gente che doveva lavorare e insomma che poteva far uso di tutta questa VRAM certamente è una scheda che comunque riesce anche a farvi giocare a togliervi diverse soddisfazioni soprattutto all'epoca era una scheda che come livello di prestazioni era in linea con una 1080 anzi comunque superiore e arrivava se avvicinava molto ecco alla 1080 Ti soprattutto dopo aver fatto un po' di tuning insomma sulle frequenze purtroppo al giorno d'oggi almeno io non sono riuscito a fare undervolt o comunque un minimo di overclock su questa scheda poiché sia con le versioni Pro che sono quelle appunto pensate per chi deve lavorare che con le versioni Adrenaline che sono quelle per quanto riguarda chi vuole giocare non è possibile ecco modificare da Afterburner ma neanche ecco dal software DMD nessun tipo di parametro neanche una curva delle ventole in passato questa cosa invece si poteva fare con i vecchi driver e appunto da questa scheda si potevano estrarre molte prestazioni molte prestazioni in più insomma diverse prestazioni in più per il fatto che si poteva fare undervolt e si poteva anche spingere un pochino di più il core in questo caso siamo andati a testare quindi la scheda a stock con gli ultimi driver però insomma quelli Adrenaline più spinti diciamo per il gioco e effettivamente questa scheda però non riesce a raggiungere il suo massimo potenziale che sarebbe di 1600 MHz sul core clock perché appunto viene a fermarsi prima probabilmente i driver vedendo come era stata la situazione effettivamente al lancio perché questa scheda nel 2017 se non la undervoltavate veramente arrivava a 85 gradi e si cappava da sola come frequenze in questo caso invece come temperature si ferma sui 77 gradi quindi con ancora un po' di thermal headroom quindi di spazio di manovra potremmo dire però ecco la frequenza non arriva mai ai 1600 MHz che dovrebbe essere insomma la frequenza massima di boost ma si ferma intorno ai 1400 MHz nella maggior parte dei casi se no 1450-1500 MHz al massimo quindi sì mi è sembrato giusto comparare i risultati di questa scheda anche con le prestazioni che ha la 1080 Ti al giorno d'oggi visto che all'epoca era una scheda che comunque costava un pochino meno ovviamente aveva meno VRAM a disposizione però sicuramente essendo ecco una scheda Nvidia aveva ecco dei vantaggi per quanto riguarda la produttività perché ecco questa radio io almeno l'ho testata nella suite di benchmark che uso di solito per quanto riguarda la produttività però insomma i risultati vi anticipo subito non sono tutta questa gran cosa questo anche perché con gli ultimi anni con le schede RTX con l'introduzione insomma di Core dedicati all'IA e quant'altro Tensor Core insomma si sono fatti veramente dei passi in avanti da gigante quindi però prima di passare i benchmark ci tengo a fare due parole sulla piattaforma di test che in questo caso è Ryzen 5 3600X overclockato a 4.4 GHz 16 GB di RAM DDR4 3200 MHz CL16 ovviamente in dual channel e una B450 Asus Robo Strix F e un alimentatore che è uno Sharkoon VPM Gold da 750 Watt detto questo direi che possiamo partire con i benchmark partendo con il primo benchmark abbiamo Cinebench 2024 qui la Vega Frontier fa 1902 punti che non è un gran punteggio soprattutto se confrontato alla 1080 Ti che fa ben più del doppio questo probabilmente dovuto al fatto che la 1080 Ti usa CUDA mentre la Vega Frontier usa HIP che però comunque non giustifica questo comportamento però su Blender Open Data abbiamo una differenza effettivamente inferiore diciamo un margine inferiore di 778 punti contro 909 della 1080 Ti stessa cosa più o meno su Blender BMW Demo la Vega Frontier 49 secondi come tempo di rendering per l'immagine e la 1080 Ti 41,9 quindi quasi 42 secondi su Blender invece della Classroom abbiamo 92 secondi per la Vega Frontier è 76 per quanto riguarda la 1080 Ti quindi effettivamente tra le due schede c'è sempre insomma un vantaggio per la 1080 Ti la Vega Frontier contro 111 fps della 1080 Ti passando poi invece al 1440p sempre insomma con gli stessi settaggi abbiamo 59 fps Vega Frontier 68,3 fps 1080 Ti quindi effettivamente anche qua si vede insomma la differenza di prestazioni che si potrà riscontrare effettivamente anche al lancio tra le due schede passando ora un gioco effettivamente che per queste schede è molto problematico alla Wake 2, settaggi di PS5 qui non ho fatto un benchmark perché vedete il gioco è completamente rotto sulla 1080 Ti dovrebbe girare all'incirca sui 20 fps sulla Vega Frontier vedete non è... è completamente spaccato questo gioco non è quello... cioè quello che state vedendo appunto è completamente glitchato quindi direi di passare avanti e poi ne discuteremo dopo su Death Stranding settaggi maxati 1080p 98 fps per la Vega Frontier è un percento low comunque molto buono e la 1080 Ti però ne fa 132 con un percento low di 102 fps passando al 1440 73 fps con un 60 fps di un percento low per la Vega Frontier 116 per quanto riguarda la 1080 Ti in 4k 43 fps Vega Frontier 62,6 fps 1080 Ti quindi effettivamente qui la differenza è molto tangibile visto che parliamo quasi di un 50% in più ecco 1080p su Fortnite a settaggi medi 159 per la Vega Frontier 189 per la 1080 Ti differenza che più o meno insomma sempre molto marcata anche in 1440p 115 fps con 360 della 1080 Ti e anche in 4k insomma qui un po' meno in realtà 85 fps per la Vega Frontier 90 fps per la 1080 Ti quindi anche qui effettivamente la scheda Nvidia mantiene insomma la sua leadership su God of War settaggi alti qui però non ho testato la 1080 Ti abbiamo 75 fps di media per appunto la Vega Frontier comunque con un ottimo 1% low e invece per il 1440p 56,5 fps quindi anche qua alla fine abbastanza giocabile potete abbassare un pelo magari mettere settaggi originali e anche in 4k 33 fps che si non sono molti però comunque lo si può giocare anche così che volendo poi alla fine li potete anche aumentare con l'FSR 2 quality li portate a 42,4 fps per un calo di qualità praticamente irrisorio e per passare a Cyberpunk altro gioco che invece ho testato anche qui con la 1080 Ti abbiamo 42 fps sulla Vega Frontier contro il 68 in Full HD qui credo che ci sia una specie di bug del gioco perché una volta queste schede le Vega andavano meglio e dopo un certo aggiornamento ve ne parlerò anche in seguito insomma hanno iniziato a peggiorare in 1440p 32 fps Vega Frontier 49 fps 1080 Ti quindi effettivamente anche qua la differenza è ancora più acuita per il fatto appunto che le Vega probabilmente con gli ultimi aggiornamenti di Cyberpunk insomma è andato qualcosa storto insomma su The Witcher 3 da RTX 11 settaggi estremi quindi un gioco che all'epoca era già uscito quando sono uscite queste schede 1080p 100 fps per la Vega Frontier 1440p 72,3 fps un percentual di 62 gioco che comunque ci tengo a precisare a settaggi estremi diventa veramente pesante quindi basterebbe mettere settaggi alti qualità che rimane praticamente invariata e avrete ancora più fps anche in 4k qui la Vega Frontier non riesce a raggiungere i 60 perché ci fermiamo intorno alla quarantina però ripeto abbassando un pelo i settaggi si può comunque giocare molto bene su Battlefield 5 settaggi alti 1080p 137 fps per la Vega Frontier e per la 1080 Ti 155 quindi una differenza alla fine non troppo drammatica ecco in 1440p 103 fps per la Vega 123 per invece la 1080 Ti ripeto anche qui una differenza che non è troppo grave e in 4k 59,5 fps contro 76,7 per la 1080 Ti e detto questo direi di passare alle considerazioni finali ed eccoci qui ragazzi con le due protagoniste di questo video la GTX 1080 Ti e la Radeon Vega Frontier che dire purtroppo questo 2023 è stato e vi dico anche i prossimi anni saranno abbastanza tosti per queste schede perché proprio adesso ecco si iniziano a sentire ecco i colpi della vecchiaia primo fra tutti sicuramente non serve neanche che ve lo dico è Alan Wake 2 perché ecco in questo caso con la Vega Frontier ha veramente completamente rotto il gioco completamente ingiocabile avete visto bug, glitch, grafici assurdi però vi dico anche ecco che anche la 1080 Ti poverina diciamo riesce a fare soltanto una ventina di fps in full HD upscalato quindi insomma qualcosa completamente ingiocabile e purtroppo ecco ci saranno sicuramente in futuro altri giochi questo diciamo è soltanto l'inizio ecco della caduta di queste schede della loro obsolescenza che diciamo prima o poi doveva arrivare alla fine sono comunque schede che per sei anni comunque alla fine anche forse in prossimi anni qualche gioco comunque compatibile ci sarà, uscirà ecco ci hanno fatto giocare sicuramente bene e mi sento di dirlo anche per quanto riguarda la Vega diciamo magari non proprio questa Vega Frontier perché ovviamente insomma rispetto alla Vega 64 56 costa decisamente di più e magari il prezzo non è giustificato però ecco quella generazione di schede è anche stata molto molto interessante e alla fine è invecchiata relativamente bene sono schede che ecco ci hanno fatto giocare veramente volendo per sei anni senza nessunissima preoccupazione e alla fine ecco solo adesso iniziamo a vedere ecco qualche segno insomma di scedimento però per quanto riguarda ecco le prestazioni di questa Vega Frontier in particolare visto che la 1080 Ti già ne abbiamo parlato in un video fatto qualche mesetto fa diciamo non sono male effettivamente per quanto riguarda i giochi perché alla fine abbiamo visto ecco in Full HD è una scheda che ancora si difende bene a parte ecco qualche titolo al di là ecco di Anowake 2 che non gira proprio anche Cyberpunk credo che dopo un aggiornamento che abbiano fatto di recente insomma le prestazioni siano calate abbastanza perché questa scheda insomma dovrebbe performare effettivamente di più ed è un caso che ho visto anche ecco anche da altri youtuber internazionali che hanno riportato questa cosa che fino a un certo aggiornamento queste schede comunque andavano non dico il doppio però veramente con un bel po' di prestazioni in più e da un aggiornamento all'altro pur essendo la grafica rimasta invariata parlo di Cyberpunk ovviamente nel gioco insomma quelle prestazioni invece sono scese veramente tanto però ecco per quanto riguarda altri giochi comunque alla fine sono completamente giocabili in Full HD e alla fine anche 1440 vabbè in 4K ovviamente è una scheda che magari sì nel 2017 poteva essere considerata effettivamente per il 4K assolutamente sì però ovviamente al giorno d'oggi ecco no quindi nel senso sì se giocate giochi più vecchi sicuramente ecco potete considerarla anche come scheda per il 4K però al giorno d'oggi la considererei più come una scheda per il Full HD o al massimo 1440p per quanto riguarda invece le prestazioni in produttività che effettivamente era l'ambito in cui questa scheda doveva eccellere diciamo ragazzi ve l'ho già anticipato prima nel senso dal 2017 a oggi sono stati fatti veramente dei passi in avanti da gigante per quanto riguarda le prestazioni delle schede in questi ambiti quindi effettivamente ci sta che queste schede non brillino più particolarmente per insomma applicazioni di produttività sicuramente ecco i 16GB di VRAM fanno sicuramente comodo però ecco ci sono ormai schede anche per esempio come la 3060 che possiamo trovare usata a meno di 200€ che comunque hanno un buon quantitativo di VRAM e sono schede RTX che quindi per esempio in Blender veramente fanno il di dietro a strisce a schede come questa ma anche alla 1080 Ti e ovviamente ce ne sono tante altre che lascio a voi ecco trovare nel mercato dell'usato schede più recenti che appunto insomma vanno sicuramente molto meglio quindi sì per quanto riguarda la produttività abbiamo visto anche la stessa RX 6600 andare meglio in realtà in diversi ambiti appunto di lavoro quindi questa Vega Frontier gli rimane soltanto il nome e anche il colore che riportano ecco ai fasti di un tempo per quanto riguarda la produttività però al momento attuale sicuramente ecco non è una scheda che prenderei in considerazione se dovete fare lavori di questo tipo quindi arrivati a questo punto del video vi consiglio a fine 2023 la Radeon Vega Frontier sostanzialmente no perché dipende ovviamente dal prezzo però realisticamente parlando questa è una scheda che ancora oggi vi vendono a minimo 250 euro 300 euro se non anche di più ovviamente però il prezzo medio è intorno ai 250-300 e per questa cifra lasciatemelo dire ci sono schede sicuramente cioè nettamente superiori sia in gaming che appunto negli ambiti di produttività e ovviamente schede anche molto molto più recenti magari sì l'unica cosa che hanno in meno è la quantità di VRAM però tutto il resto è nettamente superiore gli esempi di queste schede possono essere per esempio la stessa RTX 2080 Ti che è una scheda che è uscita in realtà soltanto un anno dopo rispetto a queste due però ha il vantaggio di appartenere all'architettura Turing quindi avere la RTX 12 Ultimate avere i core per il ray tracing dedicati il Tensor Core per quanto riguarda l'intelligenza artificiale e quindi insomma nei benchmark di produttività io sarei curioso ecco di provare una 2080 Ti al giorno d'oggi perché secondo me è una scheda che veramente ecco è invecchiata veramente ma veramente bene o se no rimanendo su Nvidia la stessa RTX 3070 anche quella scheda che si può pagare intorno ai 250 euro usata o anche la stessa 3060 Ti o la 3060 Lisha sono schede che ormai veramente nel mercato dell'usato ce ne sono in abbondanza i prezzi oscillano tra i 180 e i 250 euro però ecco come livello di prestazioni e feature che posseggono sono sicuramente molte più avanzate rispetto a questa Vega quindi nel senso sì potrei consigliarvi questa Vega Frontier se appunto la trovate a un prezzo veramente buono ma un prezzo veramente buono secondo me non è oltre i 100 euro che nel senso si fa strano perché dice una scheda che ha 16 giga di VRAM pagarla solo 100 euro però sì nel senso questo è il valore che ha secondo me attualmente per le prestazioni che offre e le feature che ripeto vi può offrire quindi sì tutto il quantitativo di VRAM che vi offre secondo me è anzi quasi spercato perché sì ci sono poche applicazioni secondo me attualmente che riescono a girare bene con questo livello di prestazioni e avere comunque insomma necessità di usare 16 giga nei giochi abbiamo visto qualcuno arrivare a utilizzare 8 giga e mezzo quando ho usato ovviamente una risoluzione molto alta come il 4k però insomma una scheda come per esempio anche una Vega 56 o la stessa Vega 64 che potete poi tra l'altro anche ecco undervoltare insomma settare per bene i vari parametri che vi costano 100 euro anche meno e sono molto più facili da trovare di questa potrebbero essere una scelta sicuramente interessante ma come anche la stessa 1080 Ti o insomma schede come la 1080 liscia per esempio anche quella insomma ormai si trova sui 100 euro quindi se avete quel budget ecco indirizzatevi più che altro su schede meno esotiche rispetto a questa Vega Frontier e anche oggi siamo arrivati alla fine di questo video io come sempre vi invito a guardare due video che se non avete visto vi consiglio molto di guardare il primo è sicuramente quello sulla GTX 1080 Ti che insomma abbiamo dato un'occhiata in realtà anche oggi alle prestazioni però ecco in quel video specifico ve ne parlo sicuramente meglio mentre il secondo video che vi consiglio riguarda un'altra scheda abbastanza esotica che è quella che vedete qui alle mie spalle cioè la GTX Titan Z è un video che ho realizzato quest'estate in cui siamo andati ecco a testare le prestazioni anche lì in produttività e nei giochi sia più vecchi che più moderni quindi ecco se siete interessati a queste schede abbastanza particolari vi consiglio di guardare quel video se non l'avete già visto detto questo io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video e noi come sempre ci becchiamo alla prossima ciao a tutti ragazzi